pulizia ma anche di valorizzazione estetica del complesso della fontana di Sant'Andrea, complesso perché è una fontana composta da elementi che sicuramente provengono da epoche diverse e anche da tradizioni diverse, infatti agli elementi civici e più legati alla tradizione popolare sono combinati anche quelli del santo, più eminentemente ecclesiastici, legati alla fede della tradizione amalfitana. L'impianto così come è stato ristrutturato ha un nuovo sistema di illuminazione che valorizza gli elementi marmorei della fontana di Sant'Andrea e sarà inaugurata il 29 novembre in occasione della vigilia. Sì, certamente, intanto le lastre che recintano la vasca erano disconnesse per cui veniva fuori dell'acqua quando la fontana era aperta, per cui nel momento in cui siamo andati a staccare queste lastre, abbiamo verificato che ci trovavamo davanti un impianto idraulico antichissimo fatto di piombo, per cui anche pericoloso per la salute pubblica e quindi abbiamo deciso di fare una variazione sul progetto e inserire questo dato che non era noto prima, quindi sono stati sostituite tutti i tubi che creano la circolazione dell'acqua e quindi da questo punto di vista c'è stato anche un apporto di maggiore regolarità anche nei getti, quindi la fontana adesso caccia l'acqua da tutti i getti e funzionante. Poi c'era grande desiderio da parte del sindaco di riempirla nuovamente come era in antico e quindi abbiamo dovuto studiare dei sistemi non visibili per poter contenere le acque all'interno della vasca e poi abbiamo scelto insieme di dare questa illuminazione con dei faretti naturalmente capaci di resistere all'acqua perché sono immersi nell'acqua. Poi dal punto di vista del restauro vero e proprio noi avevamo una vasca con un fondo di cui non conoscevamo la materia, invece siamo riusciti a liberarlo dalle carbonatazioni che avevano creato uno spesso strato, una crosta e quindi è venuto fuori il basalto che poi attraverso i documenti abbiamo scoperto essere il basalto che era avanzato dalla nuova pavimentazione della piazza perché come ha detto il sindaco prima la fontana insisteva ai piedi, era stata realizzata ai piedi della cattedrale e poi con la necessità di rifare la piazza e con la necessità anche di rendere carreggiabile l'area venne deciso di spostarla nell'area medinionale e in questa occasione praticamente sono venuti fuori elementi che sono stati apportati in un secondo momento. abbiamo ritrovato nei documenti dei cartaci il progetto realizzato dall'ingegnere Somma che prevedeva i costi e anche le operazioni da svolgere e lì abbiamo finalmente capito che gli elementi che caratterizzano la parte bassa della fontana, elementi che rinviano a dei fatti diciamo mitologici come questa sirena bicaudata di cui abbiamo tirato fuori interamente le due code, il cosiddetto pulicano che in realtà era un satiro e questo uccello rapace senza la testa per cui non sappiamo bene quale tipo di uccello sia, sono stati realizzati molto prima di questa fontana settecentesca, sono degli elementi che sicuramente adornavano un'altra fontana così come sembra darci conto questo documento che abbiamo ritrovato che furono fatti dei lavori per la fontana alla fine del 1588 della fontana della piazza quindi esisteva un'altra fontana che poi è stata un documento che è un documento notarile ed è conservato nell'archivio comunale sono due mesi, abbiamo fatto lavori in tempi record negli ultimi due mesi sì 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 grazie grazie grazie